Una città in mano ai vandali e dietro ci potrebbe essere anche una regia politica, lo ha detto senza mezzi termini il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora nell'apprendere l'ennesimo attacco vandalico al teatro comunale in piazza 5 Maggio. La struttura ancora non aperta al pubblico da tempo è finita nel mirino di bande di violenti, questa volta sono entrati all'interno del teatro scaramentando ai piani inferiori le sedie, diverse settimane fa invece si erano scagliati contro le porte d'ingresso ma l'elenco di gesti violenti è lungo, furti nel cimiterio, fontane pubbliche danneggiate senza dimenticare gli incendi dei giorni scorsi. I citofoni, no sono stati i vertici, però francamente no, la scientifica dovrebbe, anche per una ricerca di un copo a questi citofoni per vedere l'impronto, perché non pensi che abbia una persona per bene, cioè che sono sicuramente gente schietata abbondante a me, ma se non facciamo una curata indagine buonanotte qua non se ne viene mai a capo di nulla. D'accordo. No, ma li sto richiamando, li sto richiamando i carabinieri, va bene, ma fatemi la scientifica perché secondo me effettivamente è meglio a questo punto, perché cazzo non... Io sto richiamando... Grazie a tutti